Musica 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 Ristorante Pizzeria Pianette di Rovito Oggi al number one facciamo un bel filetulcio di maiale con i porcini in un bel cesto di pasta di pizza Gli ingredienti per questo piatto sono appunto il filetto di maiale, i funghi porcini, dell'aglio, sale e prezzemolo, della farina, della granella di nocciola, e poi finiamo sempre con un po' di tartufo nostro andiamo a tagliare il nostro filetto, andiamo a salare e infarinare leggermente andiamo a traccia con dell'olio d'oliva facciamo rosolare l'ambero ai lati a questo punto mettiamo i goccini all'interno mettiamo un po' di pastemolo andiamo a salare con un po' di vino bianco mettiamo un po' di pastemolo mettiamo un po' di pastemolo andiamo a salare con un po' di vino bianco i cestini di pane con la pasta della pinza dove poi andremo ad inviattare il nostro filetto andiamo a spruzzare un po' di olio andiamo a fare le pieghe per il cestino di pane un po' di olio sui bordi andiamo a finire il piatto mettiamo un po' di olio tartufato e finiamo il nostro piatto finiamo con un po' di nocciola finiamo sempre con il nostro tartufo non 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 Sì, 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 sì. e il X e l'ho provato a andare ma eeeh provare che qui numero uno